Diventa sempre più pericolosa la variante Alvignano-Piedimonte-Matese a causa dell'alta velocità e delle rotonde poco illuminate. Molti gli incidenti, alcuni dei quali anche mortali, che abbiamo registrato più volte. I lunghi tratti di strada dritti spingono gli automobilisti a schiacciare un po' troppo l'acceleratore e spesso, come vedete, dei segni nelle immagini finiscono direttamente nelle rotonde dove in alcune, fra l'altro, vi è anche un fossato a complicare gli eventuali incidenti. Sono tanti, infatti, segni visibili dalle immagini che vi proponiamo con numerosi pezzi di auto sparsi ovunque. Le soluzioni? Sentiamo che cosa ci ha detto il nostro Emilio Bianchi. I motivi per i quali succedono tanti incidenti sono certamente la velocità sostenuta, perché questa è una delle rotonde, forse la più pericolosa, che viene dopo tre rettilinei, uno che viene dal ponte dei Briganti, un altro che viene da Piedimonte e un altro che viene da Alife. La velocità sostenuta che molti adottano con le loro macchine, innanzitutto, quindi la causa non è soprattutto la provincia e la scarsa manutenzione della rotonda in questo caso, ma l'illuminazione che è fatiscente e che quasi sempre non funziona ed anche la nebbia che nelle prime ore della mattinata, con il fiume che scorre qui a poche centinaia di metri, rende pericolosissima questa rotonda. Come vedete ci sono rottami sparsi dappertutto, è un posto pericolosissimo, adesso no perché c'è il sole e penso che ci possono vedere. Comunque, ripetiamo, la velocità è alla base principale di questi incidenti che continuano ogni settimana. La nostra testata ha più volte messo in discussione questo fatto e speriamo che la provincia prenda provvedimenti, soprattutto per quanto riguarda la manutenzione che come potete vedere qui è carente. Ci sono, ripeto, rottami sparsi dappertutto di auto che si vengono a infrangere contro un palo che qui di fronte a noi, che qualche volta ha salvato anche gli automobilisti da incidenti ancora più gravi.